La tenuta Neri Giovanni e Valeria è un'azienda di 62 ettari a conduzione familiare, nata nel 1951 dalla volontà di nostro nonno Luigi Neri. Si trova vicino a Cesena, nella frazione di Carpineta, in una zona collinare e soleggiata, con buona esposizione per i vigneti e una brezza marina pomeridiana. Rispetto alla superficie totale, 21 ettari sono coltivati a vigneto, con Sangiovese, Albana, Pagadebit, Trebbiano, Lavorusco, Barbera, Moltepulciano e Merlot. Vinifichiamo solo l'uva di nostra produzione nella cantina aziendale, dove vendiamo sia vini sfusi, sia in vini imbottigliati da noi. I vigneti sono tutti all'interno della zona della DOC e della DOCG Romagna e vengono coltivati con cura, applicando il disciplinare di lotta integrata. Abbiamo anche 3 ettari di olivi, da cui ricaviamo l'olio d'extravergine d'oliva. In azienda è possibile fare passeggiata a piedi, pedalata in mountain bike e supernotazione, escursione a cavallo.